un nuovo allarme aereo questo pomeriggio proprio adesso qui a kiev le sirene stanno risuonando l'invito è quindi e per tutta la cittadinanza le potete sentire l'invito è per tutta la cittadinanza a raggiungere i rifugi e a rintanarsi perché nuovi bombardamenti potrebbero riguardare anche il centro della capitale la sirena oggi è già risuonata diverse volte le truppe russe stanno circondando la città ma qui nel centro in piazza maidan non sono ancora arrivate la diplomazia si rimetterà al lavoro questa sera per riaprire un tavolo di negoziato ma la situazione qui in ucraina è sempre più pericolosa e sempre più a rischio